...di spostare tutti i pubblici da pieno. Io sono sicuro, sono del mio giornalistico, che l'Amministrazione Comunale di Cattoria resterà un pezzo. Non porterà questo, questa opportunità. Io voglio lasciare soltanto due minuti alla dottoressa Poni, che voleva fare questo aspetto, e non rimancare una parte che è questo prima. Se stiamo collaborando con l'Amministrazione di Prato, una compagnia di sé, sono impazzite i soldi che stanno facendo. Trovo pazio alla dottoressa Poni e grazie, come lo sapete, il pietre di Comunale e i cittadini che hanno consentito questa mattina da Poni. Grazie. Allora, l'appello che volevo fare è intanto ringraziare e prendere atto positivamente di quello che sta succedendo a livello di cittadini, a livello di persone e le proprie. Volevo ricordare che le scuole sono una parte fondamentale per il futuro. Quindi vi invito a disposizione anche per le scuole, per cercare i modi condizionanti per poter accompagnare questo progetto. E dopo soprattutto agli imprenditori della donna. Noi non veniamo qua a investire, a fare gli imprenditori in questo luogo, come non siamo da nessuna parte, tranne di Sardegna, che è nata l'iniziativa ancora quattro anni fa. E qui stiamo presenti a fianco delle amministrazioni. Ho incontrato alcuni imprenditori, siamo disponibili a dare la nostra collaborazione, il nostro sistema, il nostro know-how, che è implementato qui. Eventualmente a destrarre anche le maestranze. E voglio ricordare quello in Sicilia, noi siamo presenti come consulenti e collaboratori, anche le maestranze pubbliche, e proprio un amministratore pubblico, ancora quattro anni fa, quando abbiamo pubblicato, ha detto, siamo sconvolti da come ci trattate, ci volete bene, perché voi siete imprenditori. Io ho detto, vabbè, siamo imprenditori, sì. Noi di solito abbiamo pensato con imprenditori. E allora perché abbiamo capito qual è il nostro ruolo? Cioè, bisogna che a questo territorio, come ho detto anche prima, bene, anche questa richiesta che sono i materiali condivisti. E allora, vuol dire che imprenditori, bisogna fare imprenditori. Quando agente come noi, al nord, sono andate, hanno fatto che imprenditori, hanno investito, messo le loro conoscenze, rischiato il proprio. Non bisogna sempre ascoltare per agente pubblico. E quando doveva prendere i soldi? Dei cittadini? Ma allora, è sempre stato fatto che ti torna la cosa. L'imprenditore deve fare la sua funzione. E se si è un imprenditore deve investire sul territorio, ma ricordiamoci che questo settore va investito a vantaggio del territorio. Se si incomincia a dare la raccolta, e la fanno i cittadini, che fanno totalmente la raccolta differenziata, anche il beneficio economico, tra tutto anche i posti di lavoro, deve rimanere qui, sul territorio. Perché questo è una cosa che si teme di fare per utilizzare in questo. Se no, non funziona. Io penso che le grazie. Quindi, abbiamo terminato. Io ringrazio tutti. Non resta altro che adorare fuori vacanze, e poi tornare a presentare l'opera di tutti i suoi strumenti. Fuori vacanze. Grazie.